La giornata della ricerca in onore di Camilo Golgi, organizzata per il quarto anno consecutivo dalla SST della Valle Camonica, ha avuto un eco particolarmente importante per iniziative messe in campo. Spicca per l'alto valore scientifico e per l'impegno profuso la qualità e lo spessore delle ricerche di otto giovani medici che operano negli ospedali di Esine e di Edolo, condotte con preciso rigore scientifico e già diventate patrimonio della comunità internazionale. Ricerche presentate con perfetto stile tipico della comunicazione scientifica nell'aula magna dell'ospedale di Esine, con una platea di uditori di primo piano, tra cui tutti i primari degli ospedali e tanti colleghi specialisti in diversi campi. Questa considerazione credo che sia condivisibile da tutti. Questi due ospedali, Edolo e Esine, sono degli ospedali dove viene fatta una elevata attività quotidiana di elevato livello scientifico e un'attività di ricerca di primo ordine che abbiamo visto in questa giornata a che fare con le diverse specialità che riguarda i giovani che si danno da fare in questo ospedale e che vengono pubblicate su delle riviste scientifiche internazionali di elevato impatto. Questa giornata della ricerca che la direzione, fin dall'inizio, ha voluto dedicare a Camillo Golgi ci rende orgogliose, ovviamente come comune di Cortano Golgi, ma rende orgogliosi veramente la valle perché da qui un grande ricercatore è partito e qui oggi si è mostrato come si può fare ricerca anche nel nostro territorio. Questo deve assolutamente rendere orgogliosi tutti. Io sono molto orgoglioso della nostra sanità a Camuna perché i frutti si stanno vedendo da questi giovani e dall'attività scientifica quotidiana e dall'attività di ricerca che viene portata avanti. I lavori sono stati coordinati da Giovanni Apolone, direttore scientifico della Fondazione IRCSS e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e sono stati eseguiti in videoconferenza dall'Università di Brescia, da dove la professoressa Sabina Rodari, responsabile del dei ospiti al scompenso cardiaco-artemia della SST Spiadali Civili, professore associato di malattia dell'apparato cardiovascolare, ha tenuto anche la lezione magistrali sul tema della ricerca scientifica.